Una tromba marina si è abbattuta di recente in quest'ora di tempo. Nella famosa spiaggia di Santa Marinella ci troviamo nella regione Lazio. Una donna di 53 anni d'età, pensate che purtroppo è rimasta incastrata con la sua gamba sinistra tra diverse rocce. Per fortuna però i vigili del fuoco sono intervenuti in maniera provvidenziale e sono riusciti a liberarla con l'utilizzo, con l'utilizzo ripeto, di un divaricatore idraulico. Santa Marinella ci troviamo nel litorale Laziale, se non vado errato, colpita da questa tromba marina. Tromba marina sicuramente bella da vedere ma è un fenomeno triste perché può ovviamente creare non pochi problemi. Ed ecco che i problemi ci sono stati tutti ed ecco che la situazione è stata ovviamente negativa per quelle persone che per l'appunto vivono a Santa Marinella che hanno visto con i loro occhi questa tromba marina di grande, elevata, tangibile, parise entità. Insomma si è abbattuta sulla spiaggia, ripeto, la donna è stata soccorsa di 53 anni d'età che è stata scaraventata addirittura tra le rocce o meglio tra gli scogli della spiaggia perché ripeto che Santa Marinella è una località di mare, località banera. Beh vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi iscrivetevi, commentate e un saluto legal. E al prossimo video.